Oggi è andata... abbiamo vinto 3 a 2, quindi sono molto contenta. Il quinto set è stato abbastanza tirato, però comunque l'abbiamo portata a casa, è quello importante. I primi due set abbiamo iniziato con una formazione, poi abbiamo finito con un'altra, quindi sono contenta di aver fatto parte di tutte e due le formazioni, in due ruoli diversi e credo di essere riuscita a dare il mio contributo. Secondo me, nella seconda metà abbiamo giocato un po' con alti e bassi, però con una squadra del genere, che comunque è molto forte, ci sta. Adesso ci aspetta un po' di riposo, una mezza giornata di riposo e poi non si sa ancora il nostro avversario, vedremo stasera come andrà e poi tanto chi capita capita, non fa tanta differenza, per l'importante che riusciamo a giocarcela bene noi.